bene qui siamo nella parte alta e quella della shuffle train è il percorso che ho fatto questa mattina bene la giornata minaccia pioggia e anche mezzo saluto Grazie a tutti Siamo arrivati a Mesa Arce, è uno dei punti più belli e più caratteristici dell'intero Questo arco è bellissimo, soprattutto la mattina all'alba, ho molte foto fatte all'alba Niente, in questo momento siamo oltre il tramonto, sta lanciando pioggia e sarà bene muoversi Grazie a tutti Grazie a tutti